Come è passato? Sarà Madonna l'ospite d'onore dell'Eurovision Song Contest in programma a Tel Aviv dal 14 al 28 maggio, data quest'ultima in cui l'artista statunitense si esibirà sul palco della manifestazione in occasione della serata di chiusura. La presenza di Miss Veronica Louise Ciccone è stata confermata l'8 aprile. Sul palco di Tel Aviv canterà due delle sue canzoni, incassando un cascè stellare che sembra si aggiri sul milione di dollari. Secondo i media, a pagare sarà il magnate israelo-canadese Silvian Adams, già patron della trasferta del Giro d'Italia in Israele. La scelta di Tel Aviv come sede dell'evento è dovuta al fatto che a vincere l'edizione 2018 fu una cantante israeliana, la ex militare Netta Barzilai, che trionfò a Lisbona con il brano Toy. Grazie. Grazie. Grazie.